Musica Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui con Veloxori Sono qui ragazzi per portarvi un video unico, inimitabile Il primo e unico che porterò per sempre su questo canale appunto in generale Perché? Perché oggi vi andrò a mostrare una cosa che ho fatto ragazzi Una cosa che alcuni di voi già sanno ho fatto ma altri no E che comunque ci tenevo a mostrarvi in un video a parte Perché per me è una cosa veramente importantissima Importantissima forse no, però è una cosa veramente unica nel vero senso della parola Perché sono riuscito dopo ben 5 anni di tempo a procurarmi l'account originale dell'Xbox chiamato Velox Ed eccolo qui ragazzi, molti sicuramente non avranno capito però cos'è successo fondamentalmente Sono riuscito appunto a procurarmi quel profilo che ha il nome originale, l'unico al mondo, il primo al mondo Velox Il primo al mondo ragazzi, il vero numero 1 E come vedete ragazzi sono appunto su Xbox One e quindi adesso fare una partitina a caso Soltanto per raccontarvi un po' nel dettaglio cosa appunto ho fatto una parita su Black Ops 1 Semplicemente perché non ho Black Ops 3 su questa console quindi non posso giocare su Black Ops 3 Ma ascoltate quello che dirò e non so fermatemi sulla parita perché è irrilevante Ok ragazzi sono in una lobby intanto guardate che bello ragazzi Il nome Velox pulito così Velox 5 lettere messo lì Cioè ragazzi è una cosa assurda E ora comunque spiegherò un po' meglio perché chiaramente molti non avranno capito Magari quelli più piccoli che non hanno grande esperienza Non hanno avuto grandi contatti con i sistemi appunto come Xbox Live, PSN Quindi non hanno ben idea, ben chiara l'entità di quello che appunto è stato fatto Allora lo faccio breve appunto Quando voi lo sapete bellissimo vi iscrivete sul PSN o su Xbox Live o su qualsiasi sito Qualsiasi database, mettiamolo così, su un qualsiasi database Quindi un archivio online In pratica vi viene richiesto di inserire uno username Quindi un nome identificativo Un insieme di lettere, numeri, quello che volete voi Identificativo, unico nel suo genere E che apparterrà solo a voi Questo chiaramente per logica Nel senso è ovvio che solo uno lo potrà avere Se no il sistema andrebbe in tilt Quindi appunto vi viene chiesto di inserire uno username Questo per quanto riguarda PSN e Xbox Live La faccio proprio semplice Diciamo parlando appunto di quello che ci interessa a noi Quindi cosa succede? Che appunto vi viene richiesto questo nome E logicamente per quanto riguarda i nomi più comuni Come per esempio Velox Che in Italia non so quanti ce ne sono Però comunque è un nome comune Cioè non è una parola inventata Cioè se per esempio parliamo di l'amalaggante L'amalaggante prima che diventasse appunto conosciuto su YouTube Chi cazzo si sarebbe mai messo l'amalaggante come nome? Nessuno ovviamente Quindi parlo di nomi comuni come il mio Che comunque è una parola che esiste E che diciamo che tante persone nel mondo hanno Ovviamente non come altre parole più comuni Perché ci sono parole più comuni Però comunque è una parola molto utilizzata Essendo appunto una parola molto utilizzata E' stata presa, occupata Insomma il nome originale Velox E' stato chiaramente occupato i primi giorni di Di Xbox Live Cioè dai primi giorni in cui questo esisteva Qualcuno si è subito beccato il nome Ovviamente Questo vale appunto per ogni parola Diciamo abbastanza comune Di conseguenza Poter utilizzare Come username La parola pulita Velox o qualsiasi altra parola Al giorno d'oggi E' impossibile E' impossibile trovare una parola corta Ma ormai anche parole inventate Di tipo 4 lettere Se voi provate 4, 5, 6 lettere Se voi provate a cercarle Anche se sono inventate da voi Non le troverete mai libere E quindi niente Praticamente quello che è successo E' che sono stato contratto da questo americano Innanzitutto parto col dire Che io questa cosa l'ho sempre evoluta Cioè ho sempre bramato dietro La gamertag Velox Di 5 lettere pulita Perché chiaramente Chiamandomi così Cioè per tutti i nerd ecco Che giocano appunto su console Comunque anche nelle altre piattaforme La possibilità di avere La propria gamertag pulita Senza variazioni Storpiature del nome Tipo sul PSN mi chiamo Oddio ho una zanzara No Veloxey E' una storpiatura del nome Che ho messo chiaramente perché Non perché mi piace Ma perché Velox non esiste Cioè il mio nome è Velox Non Veloxey Quindi chiaramente Diciamo la cosa più figa E' sempre stata per me Poter mettere Il nome pulito Cosa che non ho mai potuto fare Logicamente perché Si sono arrivati prima 8 milioni di persone Oh no oh no oh no 8 milioni di persone Prima di me E quindi appunto Sono stato Visat Sono stato contattato Da questo americano raga Che mi ha appunto Mi ha dato un colpo raga Mi ha appunto scritto Su Sull'Xbox Xbox Live Con l'account originale Velox E mi ha scritto Hey Velox What's up Come va insomma Per un po' sfottere No per stuzzicarmi E io ovviamente Ci sono rimasto Perché Cioè voi immaginate Voi vi chiamate per esempio Daymortal 800 La vostra gamertag È Daymortal 800 Vi chiamate così da anni E vi arriva un messaggio Sull'Xbox Live O sul PSN Da uno che si chiama Immortal Il nome pulito Immortal Che sicuramente È occupato Da il primo giorno In cui esiste Il PSN Ovviamente Perché l'avranno beccato subito Ovviamente Ci rimanete un po' Perché comunque Quello è l'originale Quello è l'originale Immortal Della Play Nel senso Ce n'è solo uno E lui Il primo al mondo Che si è creato Quell'account E quindi appunto Io ho ricevuto Questo messaggio Da questo Velox L'originale Che io conosco Da un botto Perché Conosco nel senso Conosco quel profilo Perché chiaramente Preso dalla non Un paio di volte Sono andato a controllare Chissà chi cazzo Si chiama Velox Chissà qual è L'account Velox Sarà attivo Sarà inattivo E di fatto È un account inattivo Sono quasi tutti inattivi Questi account puliti Perché ovviamente Essendo molto vecchi La gente li creava I primi giorni E poi la gente Che li ha creati Non gioca nemmeno più Magari capito Cioè Sono cose un po' così Oppure addirittura Molti li vendono Come è fatto questo tipo E E quindi io conoscevo Già questo account E ci sono rimasto tipo Malissimo Cioè no malissimo Spiazzato raga Spiazzato di brutto Perché chiaramente Dico oddio Cioè lui è l'originale È il vero Velox Ragazzi Mi ha scritto un messaggio Cosa vorrà mai E dopo Vado su Su Twitter E vedo che mi ha scritto Questo tipo su Twitter Un certo Brian Un americano Che appunto Mi ha scritto questo messaggio Mi ha fatto Ehi Velox Sei per caso interessato All'account originale Dell'Xbox Live Velox Ti ho mandato anche un messaggio E io lì Inizialmente non Cioè quando avevo ricevuto Il messaggio sull'Xbox Mica avevo capito Fosse per quello Cioè ho detto Vabbè magari questo mi segue su YouTube Cioè ha visto che è un canale YouTube E mi ha voluto mandare un messaggio E sono andato così Per provocare Sai cioè nel senso Lui è l'originale dell'Xbox Quindi è comunque Per tutti quelli che si chiamano Velox Sull'Xbox È comunque lui l'originale E invece poi appunto Mi ha scritto questo messaggio Chiedendomi se Fossi interessato appunto A acquistare questo Questo account E io lì per lì Ci sono un po' rimasto Perché Essendo un account molto raro Cioè voi dovete sapere Che queste cose Eppure essendo stronzate Irrilevanti Perché non servono a nulla Hanno un grosso valore Perché sono le uniche Cioè è una cosa Un pezzo raro ecco Come una figurina rara Voi direte Che cazzo vale una figurina di merda È un pezzo di carta Per gli appassionati Una figurina unica del suo genere Ha un valore inestimabile Per chi le colleziona O per comunque Per chi Ha un legame Con Con quella figurina Ecco Può avere un grosso valore Ecco nel mio caso Essendo appunto L'originale Velox Avere un canale YouTube Quindi Parte della mia vita Quest'account Aveva un valore E ha un valore Effettivamente grosso Che è l'originale E ce n'è solo una al mondo E io mi chiamo così E cazzo Mi sarebbe piaciuto Poter essere l'unico al mondo A chiamarmi con quel nome Cazzo Come appunto Vi ho fatto l'esempio prima Di Daymortal Cioè se uno di voi Si chiamasse così Chiaramente gli farebbe piacere Avere l'account Magari no Però comunque In linea di massima sì E quindi lì per lì Ci sono un po' rimasto Ho detto minchia Effettivamente Mi farebbe piacere Avere questo profilo Però Ero un po' perplesso Perché ho detto Vabbè ora gli rispondessi Mi spara il prezzone E chiaramente io Cioè più di una certa cifra Non gli darò mai Cioè sapevo già Che mi avrebbe chiesto Dei soldi Ovviamente Perché ovviamente Che cazzo Mi avrebbe dovuto regalare Una cosa del genere Però mi aspettavo Un prezzone epocale ragazzi E lui Lì per lì Mi ha sparato Un prezzone epocale Mi ha detto 100 dollari Mi ha chiesto subito Te lo posso dare Per 100 dollari E io logicamente Gli ho detto No Mai Già mai Perché Ha un valore per me Nel senso Una cosa che mi interessa Che ho sempre voluto avere Però chiaramente ragazzi Cioè 100 euro Non gli avrei mai dato dei soldi 100 euro Assolutamente Mai E quindi gli ho fatto No man È troppo Insomma Cioè ti posso dare Ho sparato una cifra bassissima Gli ho detto 20 dollari Che effettivamente 20 dollari ragazzi Per un account unico Nel suo genere È pochissimo Cioè 20 dollari È pochissimo E lui ovviamente Mi ha detto No no È impossibile Non posso farlo No niente Comunque non importa Mi ha scritto Grazie per il tuo tempo È bella E lì gli ho detto Questo qua Non Nel senso Vuole fare un po' Il furbastro Nel senso Vuole fare il venditore furbo Lui adesso mi vuole Un pochettino pisciare Cioè voleva fare Il disinteressato Dicendomi appunto Vabbè non importa Ci sentiamo Però in realtà Lui vuole vendermelo Perché lui sa benissimo Che solo io Gli comprerò un account Del genere Perché di fatto Sì Tante persone Si chiamano Velox Nel mondo Tantissime Infatti ogni tanto Ne incontro Ma chi realmente È disposto a spendere I soldi per un account Solo chi ha un grande legame Con quel nome Ovvero io Penso pochissimi al mondo Quindi ho detto Questo vuole fare il furbo Questo vuole Mettermi un po' alle strette E facendomi finta Che non gliene frega un cazzo Infatti mi ha detto Guarda io c'ho un sacco di richieste Mi ha detto Però di fatto Lui deve vendermelo Perché non se ne fa un cazzo È perché Io sono l'unico Che glielo può comprare Quindi l'ho lasciato verde L'ho lasciato passare Un paio di giorni Un po' come si fa nel Nel baratto Ecco Nelle aste Si fa così Nel Come si può dire Nel compravendere Non so il termine corretto Insomma Quando vuoi vendere qualcosa A qualcuno gliela vuoi comprare Si fa così Fai un pochettino Il disinteressato Ovviamente E quindi ho aspettato Un paio di giorni E lui dopo un paio di giorni Mi ha riscritto E mi ha detto Man sei ancora interessato Dico man Perché lui mi chiamava così Era un americano Quindi Sei ancora interessato All'account E io dopo un po' gli ho risposto Io gli ho fatto Sì sono ancora interessato Però chiaramente Non ti darò mai 100 dollari E allora lui ha abbassato Mi ha fatto 50 E anche lì no Non sono d'accordo 50 non te li do No sono troppi lo stesso 50 dollari Sono 45 euro Ma non te li darò mai E quindi l'ho fatto No man Non è possibile Ti posso dare massimo 30 dollari E lì mi ha detto Che non era fattibile Anche per lui Cioè ragazzi La classica Trattazione Nel senso Contrattazione In cui Il venditore Spara cifre altissime Il compratore Spara cifre bassissime Alla fine Stavano un punto di accordo Quindi lui ha rifiutato Da un paio di giorni Mi ha riscritto E appunto Mi ha E siamo arrivati Alla conclusione All'accordo Di 35 dollari 35 dollari Che possono sembrare tanti Ma per una cosa del genere Fidatevi che sono pochi Quindi io Appunto Gli ho comprato questo profilo Per 35 dollari Esattamente Non gli ho comprato Il profilo Ma Lui Gli ho comprato Lo spazio gamertag Perché? Perché abbiamo fatto così In pratica E innanzitutto Io essendo furba Non volendomi far fottere Da questo tipo qua Gli ho detto Semplicemente Guarda io ti do i soldi Però facciamo così Tu ti cambi gamertag Sul profilo E te ne metti uno a caso Facendo così Tu liberi lo spazio All'interno Ma questi sono i cani Ah mi hanno chiamato i cani Che bello Quando stai facendo Ma sono alleati o nemici? Non riesco a capire Sto facendo 50 kill E mi chiamano i cani Spero di Siano alleati Vabbè Dicevo Tu ti cambi la gamertag Si sono alleati E ti metti una gamertag a casa Andando a liberare quindi Lo spazio Velox Io cambio nome E una volta che mi sono appunto messo Il nome Ti mando i soldi E quindi abbiamo fatto così Fondamentalmente Questo mi ha scritto Dopo un paio di giorni Perché era impossibile Accordarsi con questo Perché è americano Quindi gli orari Sono talmente diversi Che andavo a dormire Quando lui stava alzando Ehm Ha cambiato appunto Gamertag del profilo Mettendone un altro a caso Mi ha scritto E c'è stato un attimo di panico Perché per un'ora Non siamo riusciti A cambiare Cioè lui l'ha cambiata E l'aveva cambiata Perché io vedevo Il suo profilo Velox Vecchio Con una gamertag diversa Cercavo Velox Sull'Xbox Live E non trovavo nessun utente Però non riuscivo A mettere come gamertag Velox nel mio profilo Era totalmente fuori uso Probabilmente perché Il sistema aveva bisogno Di aggiornarsi Ecco E sono stati attimi di panico Perché abbiamo detto Oh no Abbiamo perso la gamertag Perché effettivamente Nessuno di noi Né io né lui Riuscivamo più a Prendere possesso Di questa gamertag Però dopo un po' di ore Si è sbloccata Questa qua Dopo un'oretta E sono riuscito appunto A mettermi questo nome Il nome originale Velox Quindi da oggi Io su Xbox Live ragazzi Dove ho appunto Tutti i miei salvataggi Di tutti i miei anni Di Call of Duty Io ho tutti i giochi qua A parte A parte Black Ops 3 Quindi tutta la mia storia Da gamer Appunto Di Call of Duty Player di Call of Duty E qui Dove poi mi chiamerò Velox Io sarò l'unico Il primo al mondo Con questo nome L'unico con questo nome ragazzi C'è nessun altro al mondo Avrà questo nome Cioè voi incontrate Velox E non ci saranno dubbi Sarò per forza io Perché sarò l'unico Ad avere questo nome Niente varianti Niente storpianture del nome L'originale Che potrà sembrare Una cazzata però Che però per me Che sono appunto Una persona che Diciamo Che parte della sua vita La investe In questo mondo Visto che ho un canale YouTube Eccetera E che mi chiamo così Da anni e anni Per me è una cosa Di grosso valore Certo non è che non ci dormivo La notte Però davanti alla possibilità Di comprare questo profilo Non mi sono lasciato scappare L'occasione Quindi eccoci qui ragazzi Con questo nome E niente Sono contento Tra l'altro Qualcuno di voi mi ha detto Nella fanpage Perché io ho scritto Nella fanpage Su questa cosa Mi ha fatto notare Che mi ha detto Eh peccato però Velux Inside La mia vecchia GT E la storia di YouTube Tranquilli ragazzi Perché quel nome È comunque in mio possesso Perché furbescamente Ovviamente Per evitare che qualcuno Andasse a creare Un account con Velux Inside Che è sempre stato il mio nome Per anni e anni e anni Spacciandosi per me Ho creato un altro profilo Una volta cambiato nome Su questa account E ho rubato Il mio stesso nome Velux Inside Quindi ho sia Velux Sia Velux Inside Cioè queste due gamertag Sono entrambe In mio possesso Però chiaramente Userò Velux Il nome pulito E io vi giuro raga Vi giuro Sarò nerd Sarò sfigato Quello che volete Però mi piace Mi piace proprio tanto Giocare e vedere Il mio nome pulito Senza tag Così E obiettivamente È bello raga Cioè vi faccio sempre Ad esempio Mettetevi voi nei miei panni Se voi Avesse questo nome qua No pulito così È bello raga Cioè 5 lettere È impossibile da trovare Quindi Questo era un video Un po' diverso Perché volevo fare un video A riguardo Perché per me è una cosa Ripeto importante Cioè voi Prendetevi per sfigato Quello che non è Frego un cazzo Per me è una cosa importante Mi gasa l'idea Sono contento Sono tutti prestigi al massimo Su tutti i code Finalmente ho il mio account pulito Spero ragazzi Comunque vi abbiate apprezzato Questo video Vi invito a lasciare un bel like Fatemi sapere cosa ne pensate Ditemi che sono un nerd Tanto lo so che lo diranno Ci saranno i coglioni Che lo diranno Vabbè sono un nerd Spendo i soldi Per queste cazzate Che cazzo vuol dire ragazzi È una cosa che mi interessa Li spendo Posso spendere anche i soldi Per comprare sassi E poi mettermeli in camera Sono i miei soldi Se a me fa piacere Lo faccio Quindi spero appunto Avete apprezzato questo video Fatemi sapere la vostra Lasciate un bel like E ci bicchiamo semplicemente ragazzi Domani alle 3.70 Con un nuovo video Bella Sospenta la webcam Perfetto